e ciao a tutti ragazzi sai quanto è bella vabbè allora ciao a tutti ragazzi io sono appunto l'elettro oggi siamo in un video di merda perchè appunto già si capisce che abbiamo un computer però stiamo registrando da un telefono questo è un caso a parte però va bene così io già sto bestebbiando dietro cioè prima di fare sto video stavo bestebbiando perchè non sapevo come cazzo iniziare la intro e come fare tutte le cose belle va bene allora in questo video voi direte che cazzo farà in questo video allora come avete benissimo letto dal titolo in questo 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 video vi illustrerò come avere scp lockdown minecraft tipo la cosa più bella del mondo intanto se vedete tutte app cose che non voi direte ma che cazzo voi fate finta che non avete visto nulla perchè appunto voi non avete visto nulla e in questo video vi illustrerò appunto con una grafica appunto di merda non sapevo come registrare lo scherzo cioè in realtà so che devo usare le app però raga fidatevi se avessi fatto un video sarebbe laggato a bestia quindi raga meglio di no avrei fa... preferisco fare sto video raga se questo video avrà successo io vi porterò una serie degli scp fatta in questo modo no scherzo non la porterò mai vabbè allora ragazzi in questo video intanto vi illustrerò come scaricare la mod degli scp lockdown intanto dovete avere minecraft quello pagato questo non c'entra un cazzo questo questo fra un po' lo disinstallerò però vabbè dovete avere minecraft pagato poi dovete andare sul nostro amico google ecco dovete cercare aspettate un attimo ma che bello forge porco disney forge 1.12.2 appunto eccolo qua super iper ultra bello madonna e appunto vi aprirà questa schermata voi dovrete fare installer perché appunto è la cosa super bella qua dovrebbe partire no? ok che bello allora skip ecco adesso dovrebbe partire eccolo qua vabbè qua non fateci caso ecco qua qua vedete vedete sta partendo appunto il download di scp lockdown cioè no di di forge che vi servirà per le mod allora ragazzi ho dovuto fare una pausa per motivi x comunque qua ha scaricato forge vi dice che forge non funzionerà perché danneggerà il dispositivo mi dissocio vabbè dovete fare così con i tre puntini mantieni ragazzi possiamo dissociare da tale video io già sto video non lo volevo fare poi dovete fare apri il file e poi aspettiamo un attimo che qua sullo schermo dovrebbe partire ecco vi dice di avere forge voi dovete vi parirà una cosa di caricamento l'ha fatto ok niente io mi dissocio dopo dobbiamo chiudere coso e se noi apriamo il minecraft chi cazzo me l'ha fatto fare sto video vabbè allora adesso che apriamo il minecraft voi direte che cazzo è successo allora per chi non sapesse come installare le mod ecco qua abbiamo adesso forge 1.12.2 appunto già ce l'avevo però che cazzo lo riscarico va bene allora intanto vi consiglio aprite il coso del cartello andate su download e appunto tenetelo aperto intanto qua c'è tutto il coso che avete fatto log di forge però questi sono casi a parte lo riduciamo a icono riduciamo questo possiamo chiudere adesso andiamo su google e cerchiamo non forge togliamo forge cerchiamo scp e poi ci escono gli scp ci abbiamo 096 999 173 001 012 72 scp foundation oh mio dio una cosa illegalissima vabbè allora dovete scrivere lockdown ecco qua scp lockdown super bella se andiamo qui appunto ecco fatto adesso siamo sul sito bello con scp lockdown e qua c'è tutta la wiki che vi dice tutte le cose che dovete sapere tra cui il fatto che hanno un discord e potete entrare e suggerire scp io sto da tre anni da un paio di mesi a suggerire scp col cazzo ma ma cioè mi sa che c'è uno che avevi che stavo suggerendo era il 902 di fare l'aggiornamento per renderlo più sensato però vabbè poi vabbè vaffanculo allora dovete fare scarica fino a questo punto non ci servono manco i santi qua intanto due secondi di caricamento porco disneyland perché il 2021 fa schifo perché appunto tu fai schifo dongino dopodiché dovete fare di nuovo la stessa cosa mantieni però adesso non lo dovrete aprire no intanto chiudiamo dobbiamo chiudere apriamo il minecraft no il minecraft riapriamo il minecraft ma che cosa bella riaprire il minecraft yeah tre anni dopo ah beh ok chiudiamo voi dite ma che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare qua su installazioni con forge qua aspettate ecco fatto e avrete la sezione di forge con tutte le mod con tutte le cose che vi faranno incazzare a bestia dopodiché dovrete andare sulla sezione mods queste cose sono fatti miei voi non avete visto nulla cioè allora quando avrete forge qua non vi apparirà nulla io ho queste cartelle però queste sono le mie mod con tutte le cose pure la mia mod degli scp personale però va bene allora dobbiamo riducire il cono riduciamo pure queste icone adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare qua su download che ci sarà scp lockdown dobbiamo trascinarla dentro la cartella mods di forge a questo punto abbiamo finito possiamo chiudere apriamo avviamo adesso il minecraft e adesso raga io direi di fare un bellissimo taggetto intanto qua c'è minecraft java della 1.17 con le capre e l'axolotol giallo e le volpi di slime vabbè intanto qua si sta avviando minecraft a me ci vorrà un po' di tempo perché questo computer per chi se lo chiedesse fa schifo quindi raga io direi ecco si sta ecco qui abbiamo l'avvio delle mode qua è un po' lentino come cioè se vedete un po' qua si sta avviando tutte dai allora non facciamo nessun taglio ve lo faccio vedere vedete ci mette tre anni però se avete un computer abbastanza moderno che ne so 2020 2018 questo download sarà molto più veloce più sciallone diciamo così un download un po' più sciallone qua ci sta mettendo letteralmente ecco adesso abbiamo la moda abbiamo questo coso che non c'entra niente se noi proviamo a fare un nuovo mondo qua c'ho i miei mondi però vabbè creiamo un nuovo mondo in creativo intanto c'ho la c'ho letteralmente aspettate c'ho le cuffie dove si sente il minecraft io lo metto per sicurezza qua caso volesse sentire qualcosa facciamo raga un mondo piatto personalizzato modelli overworld usa il modello fatto e se noi andiamo su crea il nuovo si creativa se andiamo su crea il nuovo mondo aspettate un attimo era l'ora raga adesso si sta avviando il mondo non lo so perché ha detto aspettate un attimo ma qua voi non lo vedete però a me dal dispositivo mi stanno arrivando tantissimi messaggi ok raga eccoci qua intanto qua abbiamo il messaggio di SCP Lockdown però perché appunto SCP Lockdown è una mod bella intanto ci sono eh spero ciao che bello l'universo è bellissimo ok l'universo è bellissimo distruggiamo ogni pianta di questo universo di merda ok e l'universo è bellissimo va bene allora adesso se voi aprite il vostro caro inventario ecco qua non lo so perché ho fatto sto video però comunque qui avete SCP Lockdown con letteralmente tutte le cose c'è anche che ne so prendiamo degli SCP ve ne faccio vedere tipo vi faccio vedere alcuni label questi sono quelli veri cioè quello cioè allora abbiamo il soppressore il killer del so abbiamo tantissimi SCP tipo abbiamo le dragolumache i rani i granchi chirurgici lo shy guy questo SCP molto bello che vorrei fare nella mia serie però peccato che non so come farlo vi faccio vedere io voglio fare questo SCP che letteralmente è della nebbia che spawna questi draghi che avete visto poi abbiamo i granchi chirurgici abbiamo i label vediamo i label che è 939 966 vabbè sono i label loro classici vediamolo poi abbiamo i token va bene abbiamo i blocchi che sono veramente tanti abbiamo questi che io non utilizzerò mai però chi li volesse utilizzare li utilizzasse abbiamo dei tubi colorati tra cui quello che voi direte il tubo del gaccio rosso non col cazzo che è il tubo del gaccio rosso poi abbiamo i blocchi funzionali che ci sono 020 la macchinetta il ghiaccio rosso io vorrei fare questo SCP il 261 peccato che non so come farlo questo lo potrei fare però non c'ho la voglia questo l'ho fatto ed è l'unter in the dark vabbè qua ci sono un po' di cose prendiamo il documento del 096 perché lo so che molti di voi vorranno vedere lo shagai il nostro amico 096 in tutta la sua spendenza intanto mettiamo l'unter in the dark e il terreno ecco fatto e anche io voglio fare questo SCP qua il 261 il distributore pandimensionale quando potrò trovare un modo per fare questo SCP nella serie appunto degli SCP ve lo porterò qua ci sono anche i token prendiamo quello del 096 cioè che tipo la cosa però ci sono anche tipo c'è questi qua allora da questo qui dal 015 in poi questi qua su tutti i nuovi SCP c'è anche l'SCP che non puoi nominare 25-21 va bene allora prendiamo se noi facciamo col tasto destro vabbè ci sono tutte le sue cose io intanto mi sposterei da sta laggando a bestia oh mio dio ragazzi stiamo scappando letteralmente in Messico però va bene spawniamo lo Shy Guy sperando che non ecco abbiamo letteralmente spawnato lo Shy Guy e io ve lo potrei anche far vedere peccato che devo usare 3000 tasti perché tenere il coso aprirvi la porta è tutto non è che sia chissà cosa cioè raga io letteralmente sto ok raga abbiamo oh vaffanculo apriamo spacchiamo la porta intanto qua vedete raga questo 096 lo Shy Guy raga io al posto di aprire quella porta spacco perché vaffanculo bagno se no niente raga sto ecco questo è uno dei vari motivi per cui non porterò mai gli SCP dal Java perché se devo stare tre anni a stare così giuro che bestemmio qua intanto c'è il nostro amico Shy Guy eccolo qua molto bello prendiamo anche la statua allora 173 nocciolina lo so che molti di voi non staranno capendo una beata trota però va bene così ecco qua qua abbiamo anche nocciolina e niente io da da me elettro 16 nocciolina e due Shy Guy anzi per solidarietà mettiamo un'altra nocciolina da noi tre quattro scp è tutto e niente questo video è stato molto de merda però lo so che molti di voi staranno dicendo ma che cazzo e lo so raga niente niente da me elettro 16 letteralmente è tutto ciao ci vediamo al prossimo video degli scp perché appunto manco so se porterò i video degli scp da questo dispositivo perché appunto non ho la voglia di farli e se devo stare tre anni a bestemmiare con tutti i santi forse è meglio di no mettiamo questo scp che è fighissimo 430 predato questo qua anche io questo lo vorrei fare nella serie peccato che non può no 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 sta morendo ok vabbè e niente ragazzi da me elettro 16 è tutto ciao